Le parole riconversione e tagli che vuol dire licenziamenti adesso si possono pronunciare fino a qualche tempo fa era impossibile solo pensarle. C'è stata un'improvvisa accelerazione su quello che è il futuro dell'automotive in Italia nel centro Italia in provincia di dove c'è una delle capitali dell'auto in Italia, lo stabilimento Stellantis Casino Plant. Ma che cosa sta accadendo e quali sono le prospettive che è stato ricordato in queste ore non riguardano solo il mondo dell'auto, collegato c'è un universo globale. Sigla. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, è il segretario generale della CISL di Roma e del Lazio, commissario Arrieti, benvenuto a Enrico Coppotelli. Salve, buonasera a tutti voi. È vicepresidente di Asso Popolari, docente di economia all'Università di Cassino, presidente della Banca Popolare del Cassinate. Bentornato al professor Vincenzo Formisano. Buonasera. È di Frosinone, ex studente dell'Università di Cassino, ex manager di Fiat Chrysler. A Torino si è occupato di vendite e marketing di FCA, con particolare focus nella ridefinizione delle strategie dei brand. È passato poi a guidare Sang Yong Italia, che è stata una dei primi brand coreani ad aggredire il mercato italiano. Adesso è direttore generale di Queen Car. Benvenuto all'ingegner Mario Verna. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Tra poco ci collegheremo con la Regione Lazio e con il vicepresidente della Giunta regionale, Roberta Angelilli. Nella sede di Milano Finanza, Andrea Boeris, sta seguendo quelli che sono gli ultimi aggiornamenti sul caso Stellantis. In queste ore sono in corso riunioni molto importanti. Vedo collegata la vicepresidente della Giunta, Roberta Angelilli, ma stanno ancora sistemando audio e video. Diamole il tempo. Noi cominciamo però con questa scheda che ci riassume quello che è accaduto in questi ultimi giorni. Il problema vero è che non sono 600 a rischi posto di lavoro, perché se contiamo tutto l'indotto dei servizi, della filiera per quanto riguarda la plastica e gli 850 esuberi dichiarati da Fiat, si aggirano sulle 1.400 o 1.500 esuberi. Forse è l'unica soluzione che mi viene in mente in questo momento, la riconversione industriale. Se però esiste un processo di programmazione, una attività cioè che comincia a ragionare seriamente in termini di riconversione, di capacità produttiva. In un momento di crisi e in un momento di riconversione industriale bisogna reinvestire sul territorio, bisogna favorire tutti gli investimenti che gli imprenditori hanno in pancia e che vogliono portare avanti. Noi oggi chiediamo alla politica, chiediamo alle istituzioni, innanzitutto di questo territorio, di ricostruire questa prospettiva di sviluppo. Riconvertire, licenziamenti, reinvestire parole che fino a poche settimane fa non potevano assolutamente essere abbinate al sito Stellantis Casino Plant perché c'era l'impegno tuttora valido dell'amministratore delegato Carlos Tavares che ha destinato a questo impianto una delle piattaforme più prestigiose, la Stlarge, cioè una piattaforma dalla quale nasceranno la nuova Giulia, la nuova Stellvio nel 2025, la Stellvio nel 2026, la Giulia in formato full electric. Ma il destino di Tavares a questo punto è in bilico, i numeri sulle vendite delle auto elettriche non danno la prospettiva di tenere in piedi lo stabilimento di Casino Plant. Professor Formisano, quanto è seria la situazione dal punto di vista dell'economista? La situazione purtroppo è serissima, non è seria. È preoccupante perché a Monte noi scontiamo una scelta strategica a mio avviso avventata, sbagliata, non lo dico io. L'ho detto Sergio Marchionne un decennio fa, il tema dell'elettrico doveva essere affrontato con una maggiore prudenza, con attenzione. Per dare qualche numero perché purtroppo ancora oggi non leggo dati ufficiali veri sull'inquinamento da automobili a combustione tradizionale o automezzi, autovetture o veicoli commerciali. Ebbene in Italia se noi sostituissimo tutte le auto con modore endotermico, tutti gli autocarri, gli automezzi e i veicoli commerciali, noi risparmieremo in termini di inquinamento e di emissione di CO2 il 3%, ma dovremmo sostituire tutto il parco veicolare e automezzi d'Italia. Quindi il tema vero è che per un decennio ci hanno contrabbandato la difesa dell'ambiente, quando in realtà, questa è la mia modesta opinione, sotto c'erano degli interessi economici enormi, giganteschi, in cui purtroppo la nostra politica non è stata capace di avere la lungimiranza e la visione. Il tema non è se l'elettrico verrà a Cassino o non verrà, non si vendono le autovetture elettriche, ma qualcuno l'aveva detto dieci anni fa, non oggi. Il problema si dovrebbe riconvertire. C'è anche un altro aspetto, cioè al di là del motore elettrico, e questo lo chiedo all'economista, mi metto nei panni di chi governa una multinazionale dell'automotive. Il Green Deal europeo mi impone di fare un motore Euro 7 con determinate emissioni, metterlo a punto mi costa un miliardo, ma entro cinque anni e devo fare un motore che consumi la metà che emetta, l'inquinamento, la metà di quello Euro 7. E' un altro miliardo. Dopo altri cinque anni non potrò più venderli quei motori, lei mi insegna, in quei dieci anni io non faccio in tempo ad ammortizzare quella produzione. Quindi le grandi case hanno detto, sai che c'è di nuovo, vado direttamente sull'elettrico. E' un ragionamento che sta in piedi dal punto di vista dell'economista? No, per un motivo semplice, ma secondo lei in Europa questa norma l'hanno fatta senza delle pressioni e delle lobby forti, economiche, anche di produttori che probabilmente erano più avanti nello sviluppare i motori elettrici e pensavano di avere dei vantaggi competitivi. Quindi quando nasce quella norma la Germania aveva un accordo con la Russia e comprava il gas a basso prezzo, non c'era ancora la guerra in Ucraina, erano delle condizioni economiche per cui alcuni paesi più forti dei nostri hanno spinto, hanno dato un'accelerazione fortissima sull'elettrico perché pensavano di avere un vantaggio. Guardi professore, io questo lo dico da quando c'era un governo diverso da quello di oggi e c'erano ecobonus ed ecotassa che hanno rovinato la produzione di Cassino. Le chiedo un solo secondo di pazienza, do il benvenuto al vicepresidente della giunta regionale del Lazio, Roberta Angelilli, buonasera Assessore. Intanto non abbiamo l'audio, spero lei ci sente perché ho visto che mi ha risposto. Oggi l'assessore Angelilli era in collegamento con Cassino dove la CGL ha riunito le sue varie articolazioni. Invece di fare una relazione come solitamente avviene per parlare dell'automotive, il segretario Giuseppe Massafra ha voluto che ci fosse una relazione diffusa, cioè le varie articolazioni di CGL hanno spiegato le conseguenze di una crisi del comparto metalmeccanico sugli altri settori. E quindi abbiamo visto che ad esempio oltre l'auto ci sono all'interno di uno stabilimento i servizi come la mensa, come la pulizia e quello viene intaccato. Abbiamo il settore dei trasporti perché c'è la logistica nel portare i pezzi e portare le macchine, ma c'è anche il settore della funzione pubblica. Insomma l'automotive porterebbe appresso, in caso di crollo, molti altri settori. L'assessore Roberto Angelilli con un realismo europeo che le è proprio ha detto guardate noi possiamo intervenire non nella fabbrica dei sogni ma su quello che sono le norme che sono attualmente in vigore. Possiamo ragionare sulla possibilità di cambiarle, ma quello è un ragionamento da fare. Intanto noi stiamo all'interno delle norme e all'interno di queste stiamo provando a fare un ragionamento con il governo italiano e con le autorità europee. Assessore Angelilli, che cosa state provando a fare come Regione Lazio? Noi non abbiamo l'audio, Assessore allora dovrebbe, mi dicono dalla regia, sbloccare lei con il pulsantino che ha lì l'audio in maniera tale che riusciamo a sentire... Eccoci, forse mi sentite. Adesso sì, forte e chiaro Assessore. Quindi le domandavo sulla base dell'intervento che lei ha fatto oggi con un realismo, che abbiamo detto lei proprio le va riconosciuto, su quali direttrici sta lavorando la Regione Lazio? Allora, l'analisi fatta questa mattina dalla CGL è assolutamente condivisibile. Cioè, se l'automotive entra in crisi, entrano in crisi tantissimi altri settori. Quindi noi dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per bloccare questa crisi. Ovviamente, lo ha detto anche lei, Sellantis in ogni tavolo ha ribadito che Cassino rimane una priorità, anzi di più un'eccellenza. Però poi dopo, alla prova dei fatti, queste purtroppo sono soltanto parole. Allora, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto utilizzare tutti gli strumenti disponibili. Questa mattina io ho detto che verrà aperto, diciamo da qui a una decina di giorni, un tavolo tecnico innanzitutto per affrontare l'emergenza e quindi gli ammortizzatori sociali. Vale la pena ricordare che soprattutto nell'indotto gli ammortizzatori sociali sono arrivati agli sgoccioli. Quindi il tavolo tecnico insieme non soltanto al collega del lavoro a livello di Regione Lazio, ma anche un tavolo tecnico con Mimit e col Ministero del Lavoro per individuare tutte le soluzioni per affrontare innanzitutto l'emergenza. Ovviamente però non ci basta ragionare sull'emergenza e parlare solo di ammortizzatori sociali, perché noi vogliamo assolutamente preservare l'attività produttiva e preservare lo sviluppo. Una delle possibilità è quella di attivare la ZLS. Noi in questo momento non possiamo attivare la ZLS, né la ZLS unica regionale, né una ZLS di filiera, come è stato per esempio auspicato e anche noi condividiamo questa ipotesi di lavoro, ma a legislazione vigente la ZLS regionale o la ZLS di filiera per l'automotive non è possibile. Ci rassegniamo? Evidentemente no. Quindi dobbiamo far partire subito la ZLS, che certamente è soltanto una delle possibili cose da fare, un possibile strumento, ma può dare una mano e può contribuire a scongiurare una crisi del settore. Poi subito dopo dobbiamo aprire un tavolo di negoziato con la Commissione europea. Tra l'altro è un momento direi favorevole da questo punto di vista, perché tra poche settimane inizia proprio la nuova legislatura a livello europeo, quindi ci saranno tutti i nuovi commissari. Noi siamo ben felici di avere un commissario così importante, tra l'altro vicepresidente esecutivo della Commissione europea, e cioè l'onorevole Fitto, l'attuale ministro. Ecco, noi vogliamo aprire un negoziato su cui io sono abbastanza fiduciosa, perché proprio due giorni fa io ero a Bruxelles e il tema dei temi era proprio la crisi dell'automotive, dove ovviamente si sta mettendo in dubbio la scadenza del 2035 per la transizione energetica, perché è un grido unanime, un appello unanime, non si può pensare a una transizione energetica che viene pagata sulla pelle del territorio, del cittadino, dei lavoratori e delle imprese. Quindi la transizione energetica è necessaria, tutti noi amiamo e vogliamo rispettare sempre di più l'ambiente, ma ci vogliono i tempi, ci vogliono le strategie e ci vuole anche un supporto economico. E poi ci devono essere delle regole, altrimenti noi mettiamo in campo un'azione che è autolesionista. Si diceva prima, tutta l'Europa intera incide rispetto all'inquinamento del pianeta per meno del 10%, quindi qual è l'obiettivo? L'obiettivo è distruggere tutte le nostre filiere produttive, mentre nel resto del mondo ci sono interi paesi importanti, ne cito uno per tutti, la Cina, che continuano a produrre senza rispettare le norme ambientali e fanno profitti sempre più grandi sulla pelle dei nostri lavoratori e delle nostre imprese. Quindi chiederemo a gran voce in Europa di ridiscutere non soltanto il Green Deal, ma ci vuole un piano d'azione sull'automotive, un piano d'azione e anche delle risorse, perché le grandi crisi si affrontano con grandi risorse, come ha dimostrato anche la crisi Covid e il PNRR che è avvenuto dopo la crisi Covid. Quindi l'Europa ha dimostrato che volere è potere, pertanto per noi questa è una priorità, non è una priorità solo italiana, abbiamo tanti alleati e dobbiamo assolutamente arrivare all'obiettivo. Ho visto balzare sulla poltrona il segretario Coppotelli quando il vicepresidente della regione ha detto che realisticamente non si può parlare in questa fase, in questo momento, di una possibilità di creare una ZES regionale. Coppotelli e la CISL avevano chiesto guardate mettiamo insieme i vari benefici che si possono accumulare e creiamo una sorta di zona cuscinetto. L'assessore mi sembra di capire, sta dicendo non ci sono margini. Secondo lei Coppotelli, secondo la CISL? Allora intanto un saluto al vicepresidente della regione Lazio, ho condiviso moltissimo quello che lei ha detto vicepresidente, però noi siamo molto preoccupati, lo siamo perché, come diceva giustamente lei, abbiamo degli ammortizzatori sociali in scadenza, quindi abbiamo la necessità prioritariamente di comprendere, di capire come riuscire a prolungare gli ammortizzatori sociali. sappiamo che la salita produttiva di Stellantis ci sarà tra un anno e noi non riusciamo a tenere i lavoratori per un anno agganciati, chiaramente se non hanno un sussidio di quel tipo, quindi bene la sua considerazione per cercare di affrontare prioritariamente questo problema. Poi noi abbiamo un secondo problema, che è quello di capire come riuscire a riparare al danno che è stato fatto quando non si è riconosciuto a Lazio la zona economica speciale. Ora senza voler dare la responsabilità a nessuno, la mia organizzazione non l'ha mai fatto, però noi abbiamo la necessità oggi di capire come possiamo riuscire a superare quella situazione. Io vicepresidente la inviterò nelle prossime settimane a confrontarsi con noi, a confrontarsi chiaramente con i parlamentari dei territori di Frosinone, di Rieti, di Latina, perché noi abbiamo uno studio, presenteremo uno studio, l'ho portato qui con me ovviamente soltanto in copertina, che è questo qui, poi se non vi piace il titolo ZES speciale del Lazio perché bisogna farla, cerchiamo di chiamarla come volete, ma noi abbiamo bisogno di quei provvedimenti, abbiamo bisogno di quei provvedimenti perché sappiamo che la ZLS oggi è qualcosa di fattibile, perché c'è il porto di Caeta, si potrebbe agganciare al porto di Caeta ed estendere, chiaramente a compasso l'area di Frosinone e di Latina, quindi potremmo starci, però poi abbiamo l'area di Rieti e ci tengo a dirlo, noi non possiamo lasciare che il reatino continui a perdere occupazione, continui a perdere forza lavoro, continui a perdere imprese. Se non fosse stato per Tacheda, che è un'azienda chiaramente del settore chimico farmaceutico, di investire su Rieti, e se non fosse stato l'annuncio del Presidente Rocca, che nei giorni scorsi appunto ha detto che ci sarà un rafforzamento forte dell'ospedale di Rieti, io, belle notizie o buone notizie su quel territorio, erano anni che non le sentivo. Detto questo, noi oggi abbiamo una dinamica che va affrontata su tre livelli, quello europeo, condivido moltissimo con lei Vicepresidente, che il problema italiano non è soltanto italiano, ma è anche della Germania, è anche della Polonia, è anche della Francia, anche della Spagna, di tutti quanti quei territori all'interno dell'Europa che fanno dell'automotive una buona parte del core business. Ci tengo a dirlo, la Germania è quella che produce più volumi di autovetture rispetto a tutti quanti gli altri, quindi Francia, Italia, Polonia, Spagna ed altri, non arrivano a quello che fa la Germania, ma i problemi ce li ha anche Volkswagen, quindi non soltanto Stellantis ha problemi. Detto questo, il secondo tema è un tema che dobbiamo affrontare con il governo, non per incolpare il governo Meloni. Noi consideriamo che dagli anni Sessanta eravamo il quinto player mondiale per la produzione di autoveicoli, oggi siamo il ventesimo, superati addirittura dall'Iran. Cioè, quindi immaginate come negli anni si è persa la visione completa di che cosa significava fare imprese, che cosa significava fare manifattura, soprattutto automotive. E poi abbiamo il tema che noi dobbiamo cercare di accorpare ancora di più il Basso Lazio, cercando di lanciare una grande vertenza, io sono sicuro su questo vicepresidente che troveremo la regione al nostro fianco, perché se Frosinone non ride, non ride neanche Latina, perché noi abbiamo proiettato in questo studio, e mi taccio in questa prima fase, se noi non facessimo nulla, che cosa accadrebbe alla forza lavoro di Frosinone e di Latina da qui a dieci anni? Ecco, ve lo annuncio, in provincia di Frosinone perderemo circa 30 mila lavoratori, da qui a dieci anni. Quindi noi abbiamo l'urgenza e sappiamo che ci sono tavoli di confronto aperti, io sono certo che la regione sarà al nostro fianco da questo punto di vista, perché non possiamo desertificare questo territorio, e non possiamo soprattutto desertificarlo di competenze, desertificarlo di occupazione, desertificarlo di economia e soprattutto di cultura. Vicepresidente, parteciperà a questo incontro al quale lei inviterà Coppotelli? Ma certamente, ma io voglio ribadire che la sfida è una sfida comune, quindi il Lazio come sistema economico industriale deve veramente affrontare con tutti gli strumenti possibili le problematiche e anche le opportunità e dobbiamo cercare di risolvere tutte le criticità. Sarà facile? No, evidentemente sarà difficile. Io voglio essere però concreta, perché mi piace la concretezza. Allora, innanzitutto in questo momento, ripeto, a legislazione vigente, la regione Lazio può adottare solo la ZLS. È poco? Non credo, perché se si lavora ad un progetto di ZLS molto dettagliato, incrociando questo strumento con altri strumenti, con altre sovvenzioni, noi potremmo realizzare uno strumento sicuramente utile per le imprese e per il territorio. In questo momento, a legislazione vigente regionale, nazionale e soprattutto europea, perché queste sono tutte norme di derivazione comunitaria, questo possiamo fare e questo dobbiamo fare e anche velocemente. Ho detto in maniera molto chiara, penso anche di essere una persona che ha qualche competenza da un punto di vista europeo, perché sono stata vent'anni a Bruxelles anche come vicepresidente, quindi da questo punto di vista so di cosa farlo. Dovremmo aprire un negoziato, un negoziato con la Commissione europea, vedremo gli spazi che ci saranno. Penso che non saremo l'unica regione in Europa che ha problemi, né l'unica regione in Europa che vuole modificare alcune leggi europee, ma è un processo che dobbiamo fare, ci dobbiamo sentire uniti e io sono fiduciosa. In questo momento però chi parla di realizzare la ZES unica del Lazio non è concreto, altra è diversa cosa, è dire che dobbiamo lavorare verso una serie di misure che possano andare in quella direzione. Tra l'altro, e chiudo, credo che va fatto proprio un piano d'azione regionale, quindi mettere a fattor comune tutti gli strumenti possibili regionali, nazionali ed europei e cercare con le risorse che abbiamo di dare quante più risposte possibili. Quindi io sono aperta a tutti i tavoli, ovviamente all'insegna della concretezza e ragionando sugli strumenti che sono attualmente vigenti e trovando eventuali convergenze per cambiare gli strumenti. Grazie al Vice Presidente della Giunta regionale del Lazio, Roberta Angelilli, ci aveva detto che aveva un quarto d'ora e è stata con noi molto di più. Quando vuole la aspettiamo in diretta qui nei nostri studi. Buon lavoro e arrivederci presto. Fatemi sentire Mario Verna, grazie Assessore, andiamo a sentire Mario Verna dal quale, l'ho ricordato in apertura, ex manager di Fiat Chrysler, è stato per anni colui che ha gestito il marchio Sang Yong in Italia, macchina che nasce in Corea, ma all'interno c'era molta tecnologia occidentale, tutta, c'erano vari pezzi dentro al cofano che erano di Mercedes. Ingegner Verna, noi a un certo punto ci siamo persi qualche cosa, la situazione ci è sfuggita di mano perché l'impressione è che ci sia stata un'accelerazione improvvisa dalla sera alla mattina, oppure come ci ha detto il Professor Formisano, gli altri hanno capito dall'inizio che si andava in quella direzione e ci hanno lavorato e stavano avanti e a quel punto hanno detto anzi acceleriamo pure di più e noi invece siamo rimasti dove siamo convinti che l'elettrico non sarebbe arrivato mai. Lei cosa ne pensa? Buonasera, la questione è certamente non banale perché affonda le sue radici in delle scelte che sono state fatte a livello europeo e sono state fatte in modo drastico, nel senso che la legge di chiusura cosiddetta dell'endotermico nel 2035 evidentemente ha avuto una grande ripercussione su tutto il comparto ma in generale sullo sviluppo dei modelli. Possiamo oggi dire che certamente quella lì fu una scelta suicida, ma suicida non per ragioni ideologiche, per ragioni molto pratiche perché l'Europa aveva un know-how molto avanzato nella costruzione dei cosiddetti motori endotermici e lo aveva raffinato a tal punto da renderlo sostanzialmente quasi neutro per l'ambiente. Si dice che da Euro 0 a Euro 6 si hanno state abbattute per quasi il 90% le emissioni. Non aveva materie prime da spendere in una nuova avventura di costruzione di batterie o estrattiva. Non aveva nemmeno una rete in grado di sostenere questa nuova mobilità e addirittura non aveva nemmeno un approvvigionamento energetico che ne consentisse in poco tempo l'adeguamento. Inoltre ha delegato tutta la parte di competitività ad un mondo e do un ulteriore tema riguardo alla CO2. Se tutta l'Europa andasse a piedi oggi sostanzialmente si risparmierebbe la CO2 che la Cina ha aumentato lo scorso anno. Di questo stiamo parlando, solo il delta. Ed è evidente che questi numeri, non essendo fondati come risolutivi di nulla sostanzialmente, hanno da un certo punto di vista innescato un entusiasmo post-Dieselgate che in qualche modo ripuliva sostanzialmente alcune coscienze. Dall'altro hanno stoppato qualsiasi percorso di sviluppo virtuoso dell'auto europea. È evidente che oggi sistemare questa situazione. È banale. Bene ha fatto il governo italiano a sollecitare una revisione anticipandola di un anno della roadmap verso il 2035. Ma è evidente che per come stanno le cose oggi metterci delle pezze è l'unico modo per provare a limitare i danni. Perché Moody's oggi ha usato una parola molto particolare nella dichiarazione del mattino. Dicono la produzione globale di veicoli è stata più debole del previsto e il calo della domanda ha prodotto un rapido deterioramento del mercato europeo da luglio. Prevedono una blanda ripresa nella seconda metà del 2025. Il che vuol dire in un mondo che non è propriamente elastico come può essere l'industria dell'automotive che sarà lunga la traversata e soprattutto ricca ricca di incognite. Poi dopo possiamo parlare di altri numeri che riguardano la filiera, che riguardano la Germania come si parlava prima perché poi dipendiamo molto da quello e siamo assolutamente esposti in quanto fornitori metalmeccanici molto forti in Germania. Ma riguardo all'automotive adesso sciogliere quel nodo non sarà banale. Poi parliamo dei consumatori, parliamo del mercato e se volete approfondiamo altri temi sul posizionamento competitivo che stiamo avendo anche come distributori sui mercati automotivi. Allora un attimo soltanto, nel frattempo Andrea Boeris dalla redazione di Milano Finanza ci aggiorna e dice per il momento l'assemblea Stellantis sta andando per le lunghe, del resto negli Stati Uniti è pomeriggio. Una comunicazione dovrebbe esserci forse prima della fine della trasmissione, lui sta marcando questa situazione. Coppotelli, noi abbiamo detto in apertura, questa settimana abbiamo cominciato a utilizzare delle parole che fino a pochi giorni fa non avremmo neanche pensato, cioè noi siamo partiti con le parole che ha detto il nuovo presidente di un'industria Frosinone, Corrado Savoriti e ha detto con chiarezza, con versione dell'automotive e dello stabilimento Stellantis, in questo momento appare l'opzione più realistica. Abbiamo sentito il segretario della FIOM confermare quello che la settimana scorsa aveva detto in questi studi il segretario della Wilm e anzi ha allargato. Il segretario Wilm ha detto con la fine degli ammortizzatori nel 2025 questo territorio, il Cassinate, perderà 600 posti di lavoro, 600 licenziamenti. Il segretario della FIOM ha detto se ci mettiamo gli 800 esuberi annunciati da Stellantis, guardate che arriviamo intorno ai 1500. Reinvestimento, conversione e licenziamenti, prima nel vocabolario. Queste parole non c'erano, segretario. Non c'erano nel vocabolario, è vero, ma noi la preoccupazione sullo stabilimento Stellantis ce l'abbiamo sempre avuto e la mia organizzazione, lei se lo ricorderà, direttore, venne in questo studio a criticare moltissimo quello che il governo giallo-verde stava facendo. Io ricordo sedicenti politici locali che invece continuavano a dire che la panacea di tutti i mali erano dare incentivi elettrici a quello stabilimento. Oggi noi ci ritroviamo, è vero, con parole che prima d'ora non avevamo mai pronunciato come riconversione, ma la riconversione la si fa con gradualità, la si fa accompagnando i lavoratori, la si fa riformando i lavoratori, la si fa cercando di capire che non possiamo pensare di cancellare una situazione che è un'eccellenza del Bassolazio, che è appunto l'automotive, che è appunto lo stabilimento Stellantis. E quindi dobbiamo in questa fase abbinare una serie di strumenti, come dicevo prima, ammortizzatori sociali da un lato, cercare di aiutare la filiera e l'indotto, perché è vero che Stellantis è in una situazione critica, ma l'indotto o la filiera è ancora peggio. Moltissimi stanno già decidendo di investire altrove e disinvestire nel Lazio. Cioè quindi è chiaramente una situazione che ci preoccupa e i numeri sono un po' quelli che hanno detto i colleghi, ora che varino di qualche centinaio di unità significa che noi andremo a perdere oltre mille unità di personale che non avranno possibilità di reimpiegarsi nella provincia di Frosinone e saranno persone che andranno a lavorare altrove, che verranno sradicate da questo territorio e io credo che un po' tutti dobbiamo metterci un pezzo di responsabilità sulle spalle, senza additare la responsabilità da parte dell'uno o da parte di un altro. Io dico sempre che chi non fa nulla è sicuro che non sbaglia e può stare bene a casa a criticare chi invece ogni giorno cerca di trovare una soluzione. Mi fa molto piacere e raccolgo con grande favore le considerazioni dell'assessore Angelilli per una sua disponibilità. Ecco, noi abbiamo la necessità che la Regione guardi con attenzione a questi territori, perché il Lazio non è soltanto Roma e purtroppo i nostri territori si stanno agganciando sempre di più alle economie del Mezzogiorno d'Italia non avendo gli strumenti di sostegno del Mezzogiorno d'Italia. Professor Formisano, le cito due esempi industriali di questo territorio che potrebbero essere l'Alfa e l'Omega e cioè noi abbiamo avuto la Valeo, storica azienda francese che a Ferentino faceva gli impianti di condizionamento dell'aria nelle macchine. Ma impianti insomma fatti per bene, chi ha i capelli bianchi ricorderà la mitica lanciatema che aveva praticamente un condizionatore che manco a casa ce l'avevi, il bizona, i led, roba che per quell'epoca era spaziale, una macchina che in lire erano tra i 30 e i 40 milioni di lire, una macchina straordinaria. Valeo adesso, poco alla volta, poco alla volta, chiuso tutto e a Ferentino non c'è più. Ma Alfa, esempio positivo, è arrivato un imprenditore dal Basso Lazio, Paolo Marini, che ha investito e ha preso Tecnobus, che è la società che per prima in Italia, 25 anni fa, a Frosinone, faceva i mini bus elettrici. La cosa straordinaria, ce ne sono alcuni che da 25 anni continuano a camminare. Porta lì la produzione. Certo, professore, un po' di rabbia dentro la dobbiamo avere perché noi l'avevamo capito 25 anni fa, ma nessuno ci è venuto appresso. Quella ditta è andata al fallimento fino a quando non è arrivato Marini a riaprirla. Quindi, esempio di conversione. Mi sposto di pochi chilometri, Videocolor, Anagni, anche lì multinazionale francese, poco alla volta, poco alla volta, poco alla volta ci fanno bollire e riducono sempre di più la produzione e il personale. Alla fine, quando è chiuso, ce l'eravamo quasi dimenticata. Sono due esempi industriali in questo territorio. Lei tra i due cosa vede per Stellantis? O da economista c'è una terza via? Allora, per Stellantis è data anche la dimensione del gruppo, dello stabilimento, di quanto pesa. Con tutto il rispetto, la Valeo era, o la Valeo alla francese, uno stabilimento che occupava 300-400 persone. Qui parliamo di uno stabilimento che quando aprì nel 72 ne occupava 12.500, nei tempi d'oro di Marchionne ne occupava 4.500-5.000. Quindi una riconversione e trovare, senza considerare l'indotto, un player che possa gestire e sostituire la produzione di automotivi con un'altra produzione diventa un po' più complesso. Il tema è un altro, lo diceva l'ingegner Verna. Il mercato, approfondiamo il tema del mercato, il mercato dice, ed è sovrano, che l'auto elettrica non la vuole comprare. Noi questa riflessione non possiamo non farla. Perché non vuole comprare il mercato? Beh, le dinamiche sono tante, le giustificazioni possono essere tante, però innanzitutto abbiamo un tema, le infrastrutture. Perché poi bisogna, è come se noi avessimo fatto l'autostrada del sole, ricorrono i 60 anni, e non avessimo fatto i distributori di benzina lungo l'autostrada. Quindi noi manchiamo di infrastrutture. L'incertezza, quindi l'incertezza che deve sostituire un'automobile, ovviamente ci pensa, due volte. Se a ciò aggiungiamo che sostituire l'elettrio, l'ingegnere ce l'ho appena confermato, sostanzialmente gli Euro 6 sono neutrali da un punto di vista dell'inquinamento. Cioè d'Euro 0 e Euro 6 abbiamo abbattuto, ha detto il 90% delle emissioni. Allora, noi ci rendiamo conto che stiamo mettendo a rischio un sistema economico, non solo regionale, ma nazionale, senza aver risolto il tema dell'ambiente. Perché, ecco, lo voglio precisare, quando si parla di queste tematiche, si corre il rischio subito di passare per negazionisti, non vogliamo bene all'ambiente. Non è così. Noi ci teniamo, penso che nessuno, sia banale ripeterlo, ma ognuno di noi vorrebbe lasciare un mondo migliore ai propri figlioli. Quindi il problema è, ma quella misura risolve, veramente il problema dell'inquinamento. E questa è la domanda. Se noi consideriamo che India, Cina e Stati Uniti, tutte e tre producono il 75% delle emissioni di CO2, lo diceva l'ingegnere prima, l'Europa è il 10%, gli autoveicoli in Italia è il 3%. Di cosa stiamo parlando? Perché se questo sacrificio valesse a salvare l'ambiente, ebbene, ci riconvertiremo. Il vero problema è che noi stiamo sacrificando, mettendo in discussione un intero territorio, mettendo in difficoltà famiglie, perché leggevo un WhatsApp, uno dei messaggi, noi vogliamo lavorare, non vogliamo cassa integrazione, ma io sposo quel messaggio, perché è alienante. Qui non è solamente un tema economico. La professione approfitta della sua competenza per proporle, le lancio una cattiveria, perché lei prima ha detto guardate che questa operazione, il passaggio al motore elettrico, ha degli interessi economici dietro e basta. C'era chi era avanti, pensava di poter prendere tutto il mercato. Ora, però una domanda gliela devo fare. Lei ha fatto un bellissimo esempio. È come se avessimo costruito l'autostrada del sole e ci fossimo dimenticati di mettere i distributori. Senta un po', professore, ma secondo lei, perché qui in Italia non abbiamo gli hub dove immagazzinare la corrente? Cioè, con eolico e fotovoltaico noi produciamo energia green in una quantità tale che non c'è spazio sulla nostra rete per farla viaggiare. Una persona, un paese sano di mente farebbe degli hub, cioè delle batterie dove immagazzinare questa corrente e questo naturalmente farebbe anche scendere il prezzo perché la corrente non ce l'hai solo tu, ce l'abbiamo un po' tutti, bella immagazzinata. Però perché in Italia questi hub non li facciamo? Non è che anche qui c'è un interesse economico? Allora, interesse economico da un lato, burocrazia perché per costruire questi hub così come per una semplice cabina elettrica abbiamo bisogno di autorizzazioni. In questo l'ingegner Verna ce lo può insegnare, può confermare che anche per il famoso fotovoltaico che tutti quanti vogliamo portare avanti e che può essere anche una parziale soluzione non è la panacea, secondo me è una parziale soluzione però per costruire e avere le autorizzazioni, le cabine, avere l'etica, fare il fotovoltaico, fare gli accumulatori, i tempi sono biblici. Noi, per esempio, un altro problema che abbiamo sul nostro territorio nazionale, non solo nella regione Lazio, sono stati stanziati diversi miliardi di euro PNRR per costruire le cabine per allaccio dei parchi fotovoltaici. Si sta rischiando di perdere quei fondi perché non si riescono ad avere le autorizzazioni per costruire le cabine. Con fondi PNRR, quindi in Italia al discorso della speculazione o comunque di interessi economici si aggiunge un'altra variabile che è quella della burocrazia per cui avere un'autorizzazione su questi impianti, su queste opere ci vuole un tempo interminabile. Noi abbiamo un esempio, e chiudo, che poteva essere un esempio virtuoso di economia circolare perché poi questa è l'incoerenza. Noi diciamo non vogliamo inquinare, vogliamo l'economia circolare, vogliamo creare delle alternative economiche. E poi lei sa benissimo un imprenditore o un gruppo di imprenditori che hanno investito sul nostro territorio e che hanno cercato di portare l'economia circolare qui nella nostra regione e mi riferisco al caso Sachs-Agrès come questo caso sia diventato purtroppo un altro tavolo di crisi perché le autorizzazioni per il termovalorizzatore e quant'altro non sono arrivate nei tempi e quindi hanno scontato la crisi del gas. Ecco, tutto questo sottintende da un lato interessi economici, dall'altro il problema tavico che non scopro certo io della burocrazia che blocca qualsiasi opera in Italia. Verna, lei che è stato sia in FCA e sia in Sanghiong e quindi conosce i due mondi, qual è la principale differenza di approccio che ha notato e siccome lei è stato a Torino all'epoca di Marchionne quanta differenza c'è con i tempi di oggi? Intanto cominciamo con la differenza di approccio Fiat Chrysler e i coreani, il mondo orientale. Ma allora Fiat Chrysler è un po' generico come termine perché io sostanzialmente ho vissuto un po' tutti i periodi di Fiat. Sono entrato nel 2001 quando l'azienda era pressoché fallita con il convertente delle banche poi arrivò nel 2004 Marchionne e cambiò tutto quello che era possibile poi arrivò il 2008 e poi la ripresa poi l'America la Chrysler e tutto il resto. Sta di fatto che il periodo che ho vissuto io di Fiat è stato un periodo straordinario straordinario perché che Fiat rappresentava e dico Fiat nel senso di prima Fiat Group e poi FCA rappresentava una straordinaria opportunità in un paese di poter essere in diversi posti di una multinazionale. Cioè era davvero l'industria che progettava realizzava commercializzava e quindi aveva tutta la filiera all'interno di uno stesso ambito settore paese ufficio questo ci consentiva per me per esempio è stata un'opportunità straordinaria perché ho avuto modo di occupare diverse funzioni all'interno dell'azienda e di imparare cose importantissime che sono quelle necessarie nel mondo dell'auto l'auto è un business molto semplice ha delle sue regole da cui non si può derogare perché è un business ad alto impegno di capitali bassa marginalità alto impegno di spazi fisici perché le auto non le compatti in delle scatole e le spedisci con un corriere espresso che ha dunque delle regole noi per esempio non pensiamo mai alla finanza quanto per esempio abbiamo giocato l'aumento dei tassi interessi su sistemi di questo tipo l'aumento delle materie prime o l'aumento dell'energia ma sono evidentemente fatti che non sono trasparenti nel mondo dell'auto ma per tornare alla sua domanda qual è la grande differenza quello che ho visto di Fiat era un gigantesco ecosistema che si sviluppava con territori e professionalità quasi uniche nel suo genere la professionalità italiana di Fiat era è probabilmente ma era certamente unica non ne avevamo altri il nostro centro ricerche Fiat tutta la parte di tecnologia e sviluppo era veramente un gioiello che ho avuto la fortuna il privilegio di testare personalmente la Corea è un altro mondo la Corea è un mondo anch'esso straordinario ma per altre ragioni perché la Corea ha fatto quello che l'Italia ha fatto in 50 anni e loro l'hanno fatto sostanzialmente in 20-30 anni è un paese molto simile quello che ho trovato nella Corea è una straordinaria determinazione e un forte quasi determinante senso di popolo questo oggi è un fattore competitivo cioè persone che remano tutti nella stessa direzione prima di tutto per la Corea poi viene il resto e per esempio tutte le catene di fornitori sono sviluppate all'interno della Corea tant'è che i marchi coreani sono quelli che hanno sofferto meno durante la pandemia Covid perché avevano tutte le risorse tutte le filiere di fornitura all'interno del paese sono due mondi molto simili molto diversi che però hanno un disallineamento storico che oggi forse lascia a quei mondi qualche vantaggio competitivo allora un attimo soltanto ingegnere non se ne vada io chiamo la pubblicità al rientro vi introduco anche un altro tema che ci parla dei giovani visto che qui parliamo anche di futuro e avremo l'esempio di una ricercatrice Cassinate parliamo del MIT di Boston quindi uno dei templi mondiali della tecnologia pubblicità riflettiamo su delle cose che ci dirà la studentessa la ricercatrice internazionale Claudia Cea ma soprattutto risponderemo a molti dei messaggi ce ne sono alcuni personali per l'ingegner Verna non vi muovete un minuto e torniamo in diretta seconda parte di a porte aperte stiamo parlando di tessuto industriale del territorio ma anche di futuro abbiamo visto in collegamento con noi c'è l'ingegnere Mario Verna che ha studiato al Turriziani a Frosinone se non sbaglio ingegnere è vero? Lei è uno dei liceali del Turriziani poi poi l'università a Cassino meravigliosi allora noi abbiamo un'altra studentessa nasce a Cassino ed è l'unica italiana selezionata tra i 35 giovani ricercatori europei premiati dalla MIT Technology Review ha rivoluzionato il campo delle interfacce neurali Claudia Cea indica la strada ai giovani perché sulla vetta si arriva se si ha il coraggio di inseguire i propri sogni ascoltiamola si tratta di un dispositivo per la registrazione di attività neurale nel cervello formato interamente da materiali che sono biocompatibili e flessibili questo impianto appunto non solo è in grado di registrare l'attività neurale ad alta risoluzione ma anche a detettare attività epileptiforme in tempo reale inoltre questo dispositivo ha un sistema di comunicazione innovativo che si basa sulla presenza di ioni nel nostro corpo quindi è un sistema wireless che permette non solo la trasmissione dei dati acquisiti dal nostro corpo ad un computer ma permette anche l'alimentazione dove quindi questo dispositivo riesce ad alimentarsi proprio tramite gli ioni che abbiamo nel nostro corpo e sia la trasmissione del segnale che l'alimentazione può avvenire attraverso un tessuto intatto pieno di ioni come ad esempio la pelle l'innovazione sta nel fatto che questo è il primo dispositivo interamente flessibile dove non solo la parte del dispositivo che fa la registrazione ma anche la parte circuitale e la parte necessaria appunto per il trasferimento del segnale e per alimentazione è composta interamente da componenti elettronici flessibili e biocompatibili per una dimensione totale del device simile a quella di un capello crescendo guardavo molto dottor house con mio fratello ed eravamo insomma affascinati dalla professione proprio di dottor house poi ora mio fratello è diventato medico io invece ho sempre avuto una gran paura degli aghi quindi chiaramente medicina non poteva essere la mia strada quindi ho pensato ok se non posso fare il medico almeno posso creare i dispositivi che possono essere utilizzati dai dottori ed è così che poi ho scelto di iscrivermi ad ingegneria biometrica a Pisa e anche insomma questa idea di un dispositivo che sia altamente flessibile che causi delle lesioni minime ai tessuti è anche proprio venuta fuori da questo terrore da questa paura e fobia degli aghi soprattutto durante il dottorato alla Columbia University a New York che appunto era un ingegnere elettronica eravamo in tutto il corso di laurea due tre donne quindi mi è mancato appunto proprio qualcuno con cui potermi relazionare e confrontare più simile a me quindi spero che questo mio piccolo esempio possa essere di ispirazione e stimolo per tante insomma giovani ragazze sia di Cassino ma anche di Vasto Girardi perché appunto mio padre è molisano e sono cresciuta in entrambi questi due ambienti pur vivendo negli Stati Uniti da ormai quasi 8-9 anni sono comunque molto legata alle mie radici e credo che proprio l'origine di questo mio percorso sia legato tanto anche alle mie origini appunto di Cassino e di Vasto Girardi nel Molise la mia curiosità per quanto riguarda la matematica o comunque la scienza in generale è nata prima di tutto osservando le mie due nonne con cui sono cresciuta mi hanno tramandato molto questa importanza del sapere del conoscere dello studiare considerando che loro avevano potuto fare soltanto la quinta elementare in quanto donne quindi solo i fratelli delle loro famiglie potevano poi arrivare fino alle scuole superiori sento anche un po' un senso di responsabilità nei loro confronti e poi un'altra cosa che anche mi ha avvicinato molto insomma la scienza e la matematica praticamente trascorrevo tutte le mie stati a Vasto Girardi e c'era una moglie e mio fratello che osservavamo i nostri cugini più grandi guardavano documentari oppure facevano i loro compiti in scienza e matematica e quindi siamo sempre rimasti molto incuriosi e un po' volevamo imitarli perché erano più grandi di noi e quindi credo che insomma tutte queste componenti insieme abbiano influito molto poi nella scelta del mio percorso di studi un'altra persona che mi ha particolarmente influenzato è stato il mio professore di matematica e di fisica del vicio scientifico ancora ricordo che dopo il quinto superiore insomma ero indecisa se iscrivermi a economia oppure ingegneria e lui mi disse no fidati di me vai in ingegneria e vedrai che insomma sarà la scelta giusta e poi effettivamente ora a distanza di anni sono stata contenta di aver seguito il suo consiglio uno dei miei obiettivi è di sfruttare questa tecnologia che ho sviluppato interamente flessibile per interfacciare altri organi delicati e sensibili come ad esempio lo stomaco e l'intestino per studiare appunto l'interazione fra il cervello e l'apparato digerente nei disturbi neurologici ci sono molti disturbi e malattie neurologiche che probabilmente hanno le cause nascoste dietro la connessione fra questi due organi quindi mi piacerebbe studiare quali sono le cause che influenzano questa interazione si dice che quando ci si innamora si hanno le farfalle nello stomaco quindi si potrebbe andare a studiare per esempio quali sono le condizioni e le cause indietro questo meccanismo gli Stati Uniti investono sicuramente molti soldi nella ricerca e questo permette l'accesso a macchinari più innovativi che riesce ad elevare la qualità della ricerca e anche a velocizzarla infatti il sistema anniversario americano è molto dinamico molto veloce punta molto sui giovani sicuramente per i prossimi 5-6 anni devo rimanere negli Stati Uniti dopo aver vinto questa cattedra a Yale devo appunto insegnare e far partire il mio gruppo di ricerca e portare a termine alcuni progetti che ovviamente ho in programma però non escluderei del tutto la possibilità di tornare in Italia per chi mi piacerebbe contribuire nel mio piccolo alla ricerca italiana e anche per avvicinarmi alla mia famiglia la scheda era di Roberto Vettese e non ricordo se ho detto quella iniziale se non l'ho fatto me ne scuso era di Rocco Magna Pera certo sentire questa ragazza così giovane è un piacere sentire che negli Stati Uniti non hanno perso tempo e gli hanno dato una cattedra fa ulteriormente piacere qui anche se sei bravo se non hai i capelli bianchi la cattedra al limite te la fanno te la fanno spolverare vero professor Formisano? sì è vero è vero di fronte a un esempio vedere una ragazza così è un piacere è un inno all'entusiasmo alla vita è una motivazione per i nostri giovani la crescita di un territorio sta anche è un valore aggiunto se mantiene la parola e ritorna in Italia magari sul nostro territorio a fare delle cose in grande pensiamo in grande perché questo si può fare negli Stati Uniti e non lo possiamo fare qui e questo è il vero rammarico lo diceva l'ingegner Verne eravamo un'eccellenza Fiat ha insegnato a fare automobili a tutto il mondo se io penso che a Torino lo studio dell'avvocato Agnelli non è più di proprietà della Fiat cioè guardate questo è indicativo di quello che ci distingue dai coreani è l'esempio i coreani cosa diceva l'ingegnere la filiera deve essere coreana noi abbiamo svenduto le nostre tradizioni rendiamoci conto se noi non ricominciamo ad avere un amore per la nostra terra un senso di appartenenza anche la responsabilità di avere delle tradizioni importanti quando vediamo ragazzi del genere che per esprimere tutto il loro potenziale devono andare a migliaia di chilometri dalla nostra nazione pur potendolo esprimere qui questa è una nostra sconfitta questa ragazza l'ha formata l'università italiana di cui molto spesso si parla male il problema dell'università italiana non è tanto che non forma e che non sfrutta ciò che ha formato perché noi non possiamo dire io faccio parte di questo mondo quello accademico diciamo ma l'università italiana vanno avanti indirettamente i raccomandati i capelli bianchi vero in parte però questa ragazza l'ha formata l'università italiana l'ingegner Verna l'ha formato l'università italiana Cassino nella fattispecie allora il problema qual è? che siamo bravi a formare e qui siamo dei masochisti perché investiamo risorse competenze formiamo i nostri giovani quando questi giovani devono dare qualcosa li mandiamo all'estero beh peggio di così penso che noi non potremmo essere masochismo pure e masochismo pure Coppotelli di fatto la sua sigla appena lei è diventato segretario regionale della Cisela segretario generale regionale della Cisela del Lazio punta con attenzione sul mondo della scuola non tanto le condizioni degli insegnanti no no lei dice noi dobbiamo puntare sulla formazione noi dobbiamo scommettere sui giovani lei fu tra i primi a proporre l'utilizzo dei visori tridimensionali in alcune scuole della città di Roma proprio perché voleva che ci fossero dei giovani che avessero il massimo delle possibilità di formarsi quanto è importante questo concetto della formazione lo dico per chi a casa pensa che lo studio non sia importante ora guardi è fondamentale le dico che da allora non è cambiato nulla perché la mentalità che ho sempre cercato di inserire all'interno dei luoghi di lavoro che ho potuto frequentare all'interno dei territori che ho avuto modo di poter chiaramente sindacalizzare anche questo ringraziando Dio accade è stato sempre quello di affiancare una formazione continua sia per gli studenti ma anche e soprattutto per i lavoratori leggevo prima un messaggio che diceva ma noi che cosa dobbiamo fare chiaramente è troppo semplice la domanda sarebbe troppo ovvia la risposta è chiaro che ogni caso ha una sua conformazione però è chiaro che oggi moltissime imprese ad esempio dell'Alto Lazio dicono che non trovano periti chimici per le aziende del chimico farmaceutico e questo è un dato il secondo dato che all'interno della ricerca che noi presenteremo il prossimo mese di novembre c'è è che la provincia di Frosinone è la provincia del Lazio che ha perso più giovani negli ultimi anni cioè significa che i giovani stanno abbandonando questi territori studiano qui ma vanno a lavorare altrove come diceva giustamente il professor Formisano e la cosa che dispiace davvero tanto è che c'è una sincronia tra la qualità della formazione e l'ingegner Verna e il professor Formisano credo che ne siano degli esempi lampanti però poi non sempre noi riusciamo a far studiare e a far lavorare i nostri giovani nei nostri territori e la cosa più davvero preoccupante è che il dato di giovani che abbandonano la provincia di Frosinone è in crescita e se lo proiettiamo da qui al 2034 quindi da qui a 10 anni sarà superiore addirittura alle province di Latina alle province di Rieti e alla provincia di Viterbo il convegno che noi il mese prossimo e lo voglio annunciare a Telli Universo sarà Lazio ai confini questo sarà il titolo del convegno perché noi dobbiamo ripartire dai confini del Lazio che sono Latina che sono Frosinone che a Rieti che a Viterbo perché ai confini perché superando il confine si trovano delle condizioni economiche sicuramente non che siano come dire a Budabi o Dubai ma sono delle condizioni economiche di competizione rispetto al nostro territorio e siccome oggi la competizione la si gioca su sistemi regionali l'Abruzzo ad esempio le Marche ad esempio ci tengo a dirlo Latina era leader per quanto riguarda l'export del chimico farmaceutico oggi sull'export viene superato dalla marchigiana Ascoli Piceno cioè significa che quel sistema regionale ha lavorato meglio del nostro e non hanno la capitale non hanno Roma quindi immaginiamo quanto noi stiamo perdendo nei nostri territori forza lavoro soprattutto stiamo perdendo economia ma stiamo perdendo anche l'ambizione perché quando e chiudo davvero direttore visto che c'è ancora l'ingegner Verna quando prima parlavamo di mercato oggi se un lavoratore prova ad andare su qualsiasi sito e cerca di acquistare un'autovettura nuova si rende perfettamente conto che non è per le proprie tasche l'acquisto di un'autovettura e quindi oggi il mercato mi smentisca ingegnere se non è così si sta orientando sull'usato e che cosa si acquistano autovetture diesel e autovetture benzina usate perché sono quelle che le persone si possono permettere non voglio estremizzare ma se voi andate a Cuba trovate ancora quelle Fiat 126 che venivano prodotte a cassino negli anni e sapete perché perché le persone non le possono più acquistare quindi non voglio rassegnarmi a vedere il nostro territorio come un territorio di matrice sudamericana ma invece lo voglio vedere ambire a qualcosa che è un'Europa meravigliosa e alla quale assolutamente noi dobbiamo tendere intanto se dalla regia mi mandate i messaggi perché così poi li giriamo i diretti interessati però c'è questa domanda di Coppotelli Ingegner Verna rischiamo di diventare sudamericani andremo in giro con quei macchinoni alla cubana? Ma il rischio è abbastanza concreto magari non saranno i macchinoni sudamericani magari sarà qualche utilitaria un po' più di casa nostra ma è concreto ma lo è per una semplice ragione la chiusura del 2023 ci ha consegnato un parco circolante in Italia di 40 milioni di vetture di cui solo il 37% è Euro 6 noi abbiamo di ante Euro 4 circa il 25% di vetture ora è evidente poi arriviamo all'Euro 4 e poi all'Euro 5 il totale di tutte queste vetture fa più del 70% del 60% quindi cosa vuol dire che più di 20 milioni di vetture sono vecchie ed è evidente che i possessori di queste vetture non siano propriamente dei collezionisti d'auto è evidente che la proposta non si incastra con la domanda perché è chiaro e l'altra curva interessante da guardare la trovate un po' su tutti i siti disponibili è che il nostro parco circolante sta invecchiando quindi la dinamica degli incentivi la dinamica della sostituzione sollecitata degli ultimi anni non sta portando i risultati concreti perché il parco circolante continua ad invecchiare e se il parco circolante invecchia non saranno risolte nemmeno i problemi di inquinamento perché continueranno a circolare vetture che hanno tassi di inquinamento mostruosamente più alti rispetto a dei banali endotermici euro 6 questo è un tema su cui forse vale la pena fare un ragionamento perché la forbice che da una parte non ha nulla a che vedere con l'automotive ma è figlia del nostro tempo e degli indicatori macroeconomici di cui l'automobile è un elemento straordinariamente elastico se il PIL non cresce se l'economic sentiment indicator non è allineato se ci sono dei temi sui tassi di inflazione l'automobile mediamente stagna dall'altra parte la cosiddetta rivoluzione green ha portato insieme a tutti gli altri discorsi che abbiamo visto prima quindi l'aumento delle materie prime l'aumento dei costi di logistica delle tariffe energetiche ma ha portato anche un aumento dei costi del prodotto del prodotto finito senza arrivare necessariamente alle elettriche che sono il picco massimo ma fermandoci anche a tutta la parte chiamiamola ibrida l'elettrificazione più light delle vetture questa forbice tra un potere d'acquisto inferiore ed una proposta commerciale che ha aumentato il suo prezzo di transazione è una forbice che si divarica sempre di più quindi per tornare alla sua domanda il rischio è già nei numeri perché se il parco circolante invecchia e abbiamo già un effetto Cuba non così palese perché evidentemente non vediamo le auto degli anni 50 in giro per la città ma certamente già in atto allora telegraficamente così vediamo di rispondere a tutti quanti Ingegner Verna quella delle auto elettriche domanda un telespettatore è davvero una rivoluzione secondo lei? Rispondo in maniera telegrafica generalmente le rivoluzioni non hanno bisogno di leggi che ne obblighino il loro sviluppo tutte le rivoluzioni industriali siamo alla quinta che sta per cominciare di fatto ne abbiamo vissute quattro quella del vapore quella elettrica quella digitale l'ultima che è sostanzialmente la cibernetica non hanno avuto leggi che vietassero l'utilizzo di qualcosa precedentemente ma attraverso un principio di utilità si è trovato l'interesse dei consumatori dei produttori di chi ha sviluppato le nuove idee perché progredissero vi faccio un esempio non è che quando è arrivato il cellulare si è vietato a partire da un anno X l'utilizzo delle cabine telefoniche o del telefono di casa evidentemente l'allineamento tra la domanda e l'offerta e la democratizzazione del prodotto scelte dei costi eccetera eccetera fatto sì che il mercato ne diventasse sostanzialmente munito nella stragrande maggioranza la rivoluzione industriale non si fa per legge è da incorniciare altra domanda che le rivolgono ingegnere vera la storia che in provincia di Frosinone costa troppo fare le auto per colpa dei costi energetici oppure era una scusa che Tavaresce si era preparato per portarci alla situazione di oggi ma non credo sia un tema di provincia e di costi energetici che credo che l'Italia abbia sì un problema energetico che sarà di difficile soluzione nel breve ma per avere è ovvio che rispetto alla Francia l'Italia ha dei costi energetici superiori ma semplicemente perché la Francia se non ricordo male ha 56 reattori nucleari e l'Italia zero altra domanda per lei ingegnere chiedono se lei ha un ricordo personale di Marchionne e se era davvero come lo descrivono Marchionne è stato credo il miglior manager degli ultimi secoli da quando chiamiamo manager rimanager era una persona straordinaria che aveva era riuscito ad unire in un'impresa che normalmente è difficile cioè quella di unire la regolatezza al genio era una persona straordinariamente geniale ma che aveva metodo e cosa non trascurabile una grande capacità di lavoro Marchionne lavorava 20 ore al giorno e tutti i giorni non troverete credo mai una sua foto in vacanza o qualche ricreazione particolare e quindi questo è un messaggio che mi piace molto dare ai giovani se come abbiamo visto dalla ragazza che ha parlato prima raccontandoci una storia bellissima se non ci si mette tempo fatica passione e lo si fa con continuità nel tempo è molto difficile che si possano raggiungere risultati Marchionne è stata una persona straordinaria credo che l'Italia forse fra qualche anno lo apprezzerà davvero come merito grazie professor Formisano chiedono un suo parere sulla parola conversione industriale con cui all'inizio insomma noi abbiamo detto perbacco adesso entra pure questo nel vocabolario le chiedono se secondo lei è possibile o meno perché prima ha fatto un esame e ha detto convertire tutto lo stabilimento con queste migliaia di lavoratori no però domandano ma la conversione fatta a piccoli pezzi è possibile secondo lei? penso sia personalmente penso sia troppo lunga i costi sociali sono elevati ci sarà da soffrire molto io invece penso che si possa ripensare scusate il gioco di parole visto che dobbiamo riconvertire quindi ci vuole del tempo beh trovare una via di mezzo tra l'elettrico e l'endotermico attraverso l'ibrido anche rivedere il piano strategico e quindi prevedere anche una linea che possa produrre automobili endotermiche secondo me anche negli stabilimenti di Cassino Melfi e Pomigliano secondo me potrebbe essere una strategia vincente non solo per i territori ma per l'azienda stessa perché nel lungo periodo se noi guardiamo anche i bilanci qui vediamo anche qualche tema economico aziendale e reddituale se negli anni scorsi Stellantis comunque ha fatto degli utili straordinari beh adesso con la contrazione delle vendite anche con l'inalzamento dei costi e con tutta una serie di ammortizzatori sociali che pian pianino vanno a finire anche Stellantis e tutte le case produttrici incominciano a avere dei problemi in termini reddituali quindi oggi il problema di come andare avanti nella produzione e qual è la strategia se lo pongono anche i costruttori perché la mia opinione è che andare avanti solo sull'elettrico e puntare solo sull'elettrico pensando di arrivare a quel milione di automobili da produrre e vendere perché è quello che diceva l'ingegnere le dobbiamo vendere le automobili non basta produrle ok perché noi oggi abbiamo la piattaforma migliore sull'elettrico si dà il caso che non si vendono perché costano troppo perché non ci sono le infrastrutture perché qualcuno ci deve spiegare anche tutti gli scarti delle batterie come verranno smaltiti ancora non ce l'ha detto nessuno sono troppi i punti oscuri quindi se dobbiamo riconvertire in un altro ambito in un altro settore tanto vale ripensare la strategia nell'automotive e fare un mezzo passo non dico indietro ma laterale Coppotelli le domandano se è preoccupato invece per i lavoratori che non stanno nell'automotive dentro le fabbriche ma nei concessionari stante il ricatto al quale le concessionarie sono sottoposte perché le case costruttrici stanno scaricando sui concessionari il fallimento dell'elettrico obbligandoli a comprare le macchine l'altro giorno a livello nazionale hanno detto guardate che ci sono concessionari che si trovano lì le macchine gliele hanno mandato e se le devono prendere in silenzio e a loro volta i concessionari devono cominciare a ridurre il personale per rientrare nei costi si è preoccupato siamo molto preoccupati perché il problema è reale è reale perché tutta la filiera dell'automotive non è soltanto appunto quello che accade nello stabilimento di Pietimonte San Germano ma è tutto l'indotto e anche soprattutto la parte finale che è appunto la parte della concessionaria siamo preoccupati soprattutto perché non riusciamo a registrare nessun intervento politico amministrativo su un grido di allarme di quello che sta accadendo nel Basso Lazio io lo vedo molto spesso mi capita di fare delle dichiarazioni che anche lei direttore riprende nel suo blog ma io poi non vedo seguito ad un grido d'allarme che comunque sia i lavoratori per il tramite dei loro rappresentanti in questo caso il sindacato fanno e mi preoccupa molto perché sono ormai quasi sette anni che non sono più su questo territorio a svolgere l'attività sindacale ma ho visto una regressione anche dal punto di vista delle proposte io ricordo che dieci anni fa si parlava di aeroporto si parlava di metropolitana leggera di superficie leggevo un messaggio di un pendolare che diceva sì ma io ogni giorno devo andare a Roma la difficoltà che ho per andare a lavorare eccetera eccetera non si sentono più quel tipo di proposte e è deprimente soprattutto perché non si dà alle persone non si danno alle persone che sono in questo territorio la possibilità di poter vedere cambiare la propria condizione e quindi l'ascensore sociale tende a schiacciare verso il basso perché le persone non hanno più la voglia come dire di di poter sognare io ricordo è anche la possibilità e quindi è la possibilità che è il motore che spinge quell'ascensore sociale al quale lei faceva riferimento se vuoi sognare vai all'estero questo è il grosso problema il tempo è scaduto grazie all'ingegnere Mario Verna sarà un piacere averla con noi in diretta nei nostri studi quando vorrà grazie ancora per la sua presenza e per quello che ha fatto portando in giro per l'Italia la capacità della gente che parte dalla provincia di Frosinone grazie al segretario Enrico Coppotelli grazie al professor Vincenzo Formisano a porte aperte chiude qui questo numero ci vediamo tra una settimana stessa ora stessa rete arrivederci grazie a tutti